Continua prima fila la rassegna di musica e teatro dell'Associazione Novecento che dopo Altomonte approda al Teatro Garden di Rende insieme a Lello Arena con il suo spettacolo dal titolo Parenti Serpenti, la tragicomica commedia di Carmina Moroso resa celebre dal film di Mario Monicelli. I parenti possono essere serpenti, spesso quelli che vengono a teatro si accorgono che hanno i serpenti a fianco e non se ne sono accorti fino a quel momento, poi vedono lo spettacolo e se ne accorgono e tornano a casa più guardinghi del solito. Ha un sapore particolare proprio perché la gente, il pubblico presente, sbircia proprio dal buco della serratura quello che succede in questa famiglia e questo li rende ovviamente molto più partecipi, tridimensionale piuttosto che il bidimensionale del cinema che è molto bello ma non è la stessa cosa. Siamo sempre più affezionati a questo teatro perché insomma comunque ci ha fatto così emozionare con tanti spettacoli e si riparte. Abbiamo fatto una scelta nell'ambito della programmazione di prima fila che è quella di scegliere delle commedie, degli spettacoli che fossero il più allegro possibile anche per il momento particolare che c'è. Il pubblico ha la necessità di sorridere e di farsi due risate.